Il palazzo risale al XVI secolo, ma fu rimaneggiato nel Settecento, epoca a cui va riferito l'ultimo piano con il cornicione. Il portale rinascimentale, incorniciato da bugnato, è surmontato da un arco a tutto sesto e fiancheggiato da due lesene con un'alta cornice superiore. Al suo interno si trova un frammento di mosaico romano. Il palazzo è attualmente occupato da uffici comunali. Grazie per la visione!